Ehi, 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 ehi! Buon Natale a lei! Lei è cattivo, signore. So che cosa fare. Mi inventerò un modo per rubare il loro Natale. Ammirate il biscotto. Questo è il nostro nemico. No, 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 no! Noi dobbiamo... ...resistere. Faremo cadere la slit dal tetto, ok? Forza, truppa! È la neve più rumorosa che abbia mai sentito in vita mia. Se devo diventare Papo Natale, devo prima entrare nel personaggio. È l'ora X. Adesso sì che ha uno stile. Ho! 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 Max, ti ho promosso. Sarai tu a tirare la mia slitta stanotte. Ho! Ma cosa? Max? Sì, Max! Il Grinch. Max? Conosci le regole. Tu dormi nel tuo letto e io dormo nel... Gli hai insegnato tu a fare gli occhioni. Su, dai! Agh! 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 Ma... Clè... Non più, che sei. Si hai... Tu hai... Tu hai... Tu hai... Ho... Tu hai... Ero...